ipod touch di prima generazione quanti ricordi buongiorno benvenuti o bentornati sul mio canale ma soprattutto buona domenica nei giorni scorsi se mi seguite anche su instagram vi lascio anche il link qui in descrizione ho fatto una piccola storia che riguardava gli ipod perché appunto la apple il 10 maggio del 2022 ha deciso di sospendere la produzione e la commercializzazione dell'ipod questo player musicale che ha cambiato davvero il nostro modo di fruire la musica nella nota appunto che c'è all'interno del sito della apple si legge appunto la musica continua ipad touch sarà disponibile fino a esaurimento scorte qui si parla dell'ipad touch di settima generazione quindi l'ultimo prodotto dalla casa di cupertino ci sono un po di storia c'è un po di note vi lascio il link interessante anche andarla a visitare perché c'è un po di storia degli ipod e soprattutto la musica è sempre stata nel dna di apple portarla a centinaia di milioni di utenti come ha fatto l'ipod non solo ha avuto un impatto enorme sull'industria musicale ma anche ridefinito il modo in cui le persone la scoprono l'ascoltano e la condividono infatti diciamo grazie all'ipod molti utenti si sono avvicinati alla casa della mela e poi sapete che dopo l'ipod è arrivato l'iphone che ha sconvolto ancora di più il sistema di fruire i contenuti tramite un dispositivo mobile oggi quindi puntata dedicata ai miei ipod ve li farò vedere e ci saranno anche due unboxing che vengono dal passato ho recuperato le scatole quindi tutto com'era in realtà appena acquistato il prodotto e faremo quindi un unboxing un po speciale prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di mettere la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei miei video e soprattutto se vi fa piacere mettere un commento è un bel like e adesso andiamo a vedere un po i miei ipod allora ecco qui questi sono i miei ipod un ipod nano un ipod classic un ipod nano di sesta generazione è un ipod touch andiamo a vedere cominciamo a scoprire l'ipod nano ed ecco il nostro ipod nano vediamo la scatola molto bella nera con il disegno appunto dell'ipod come vedete ha una dimensione molto più piccola rispetto all'ipod che vi ricordo il primo ipod c nel 2001 quindi stiamo parlando di 21 anni fa questa è una versione nuova una versione diversa da far utilizzare agli utenti apple ma soprattutto una cosa interessante del mondo ipod è secondo me il prodotto che ha più innovato all'interno della casa della mela infatti se vedete qui anche sul sito che adesso vi faccio scorrere molto rapidamente poi vi lascio sempre i link per andarli a visitare come vedete la trasformazione che c'è stata i modelli che ci sono stati delle ipod sono stati tantissimi si è andato anche dai materiali diversi la plastica il vetro l'alluminio quindi si è cercato i colori soprattutto è stato il primo dispositivo mobile a introdurre il colore anche nelle colorazioni molto particolari che ritroviamo adesso anche sui nuovi mac è stato quindi un campo di sviluppo molto interessante per l'apple stessa quindi ha potuto innovare senza avere forse l'assillo di avere un nuovo cellulare un nuovo smartphone un computer quindi un piccolo dispositivo che serviva solo ad ascoltare la musica e quindi si è cercato di innovare sempre di più questo prodotto andiamo a vedere quindi l'ipod nano primo di questa generazione appunto di nano quindi piccoli vi ricordo che c'era anche un'altra versione si chiama mini questo è ancora più piccolo del mini e andiamo a vedere la scatola una bellissima scatola nera con il sovraimpresso appunto l'immagine e la scritta argentata ipod nano è qui in alto il simbolo della apple qui di lato non c'è niente dietro c'è il profilo alluminio e vetro del prodotto anche qui materiali di un certo livello il simbolo della mela bello in evidenzia e vabbè e qua la grandezza un giga 240 canzoni potevano essere archiviate all'interno di questo ipod nano pc e mac quindi finalmente poteva essere utilizzato su tutti i due dispositivi vabbè qua ci sono qui cercolice a barra e nient'altro andiamo ad aprirlo andiamo a vedere anche l'esperienza della box che è molto bella quella di questo ipod vedete c'è questa scatola dove c'è scritto appunto disegnato da apple in california il resto è tutto nero e andiamo ad aprirlo come vedete nel momento che lo andiamo ad aprire ecco qui il nostro mettiamo un po' a fuoco ecco qui il nostro ipod nano come vedete ancora imbustato quindi la mia follia a che punto arrivo e qui di lato invece c'è una piccola scatolina piccola tasca interna chiusa con alcuni simboli che sono il cd ebbene sì c'era il cd di installazione il cavo usb di ricarica e le cuffiette ma andiamo ad aprirlo prima di aprire il nostro ipod naturalmente le bustine sono già aperte perché l'ho utilizzato per anni e andiamo a vedere il contenuto magari anche proprio di queste bustine allora in questa bustina c'è il cavo ecco qui il cavo di ricarica e di collegamento al pc mac per la sincronizzazione con itunes vi ricordo che questi dispositivi avevano bisogno obbligatoriamente di una connessione itunes sul dispositivo sul computer altrimenti neanche si potevano proprio attivare e soprattutto la musica era l'unico modo per scaricare musica su questi dispositivi e quindi bisogna avere questo cavo il cavo mi dico cavo 30 pin come viene chiamato che è stato anche il cavo dell'iphone 4 dell'iphone 3 se lo ricordate abbiamo le cuffiette ecco qui queste sono le iconiche diciamo cuffiette della apple ve le metto anche un po qui adesso rivediamo era è diventato proprio il simbolo degli ipod questa cuffietta bianca con questo filo bianco vi lascio vedete alcune immagini degli spot pubblicitari della apple dove si vedeva appunto le silhouette delle persone ma in evidenza c'era questo filo bianco che rindificava appunto le cuffiette di un ipod quindi chi andava in giro con questi fili bianchi appesi alle orecchie si capiva subito che portava un ipod in tasca che altro c'è all'interno ci sono dei piccoli feltrini da mettere sulle cuffiette stesse quindi come vedete infatti le cuffiette sono libere quindi andavamo poi coperte con dei feltrini se si voleva insomma era obbligatorio e e c'è un piccolo vedete stand come vedete qui adesso vi faccio vedere anche dove si viene utilizzato si inseriva all'interno di una dock eccola qui questa è una docking station di ricarica come vedete qui dietro c'è sia l'adattatore quindi per il collegamento del 30 pin che la linea in uscita oltre che delle cuffie per magari inserirlo all'interno di uno stereo qui davanti addirittura c'è anche l'infrarosso quindi era possibile utilizzare un telecomando eccolo qui un telecomandino per poi mandare avanti in play avanti e indietro come vedete sembra anche anche proprio come ghiera no ricorda molto anche lui un ipod di prima generazione e quindi l'infrarosso qui davanti e qui si andava a innestare questo adattatore e quindi per ogni ipod che veniva insomma per ogni tipologia di ipod c'è la apple ci dava anche il suo adattatore fatto apposta per inserirlo all'interno di questa dock vedete questo è un adattatore realizzato appositamente per l'ipod nano ma c'era anche per l'ipod classic eccetera quindi ogni confezione ne conteneva uno proprio per inserirlo in questa docking station interessante questa cosa perché diciamo adesso è molto difficile magari trovare dispositivi che soprattutto anche dell'apple che ci danno cose in più in questo in questo periodo era ancora così stiamo parlando del 2005 naturalmente non c'era l'alimentatore ok quindi l'alimentatore non era compreso all'interno dell'ipod nano perché appunto si veniva alimentato poi il tutto tramite computer andiamo a vedere anche nella busta cosa c'è ecco qui allora c'è una piccola introduzione sulla ipod nano questa in spagnolo eccola qui questa è la guida rapida in italiano dove appunto ci viene spiegato come va collegato al nostro computer la dotazione interna come vedete appunto la basetta il cavo e le cuffiette naturalmente qui vabbè viene spiegato il tutto come si fa a connettersi la ricarica l'utilizzo del dei vari pulsanti e della ghiera interessantissima una ghiera quasi touch con il dito poteva girare adesso poi la vedremo sull'altra versione che si vede meglio ok vabbè alcune informazioni qui c'è tutto quello che riguarda la garanzia e gli adesivi i medici adesivi in questo caso due adesivi bianchi e poi ecco qui qui dentro c'è il cd immacolato mai utilizzato dell'ipod più itunes e qua come vedete ci dice già il sistema di installare il software prima di connettere l'ipod proprio perché tramite il software poi veniva anche attivato l'ipod stesso quindi bisognava installare il tutto ma adesso andiamo a a vedere il nostro ipod ed eccolo qui ancora in nella sua bustina andiamo a vedere ecco qui il nostro ipod come vedete è davvero piccolino rispetto a un cellulare insomma vi lascio insomma guardate come è piccolo e maneggevole come vedete dietro in acciaio con la serigrafia ipod un acciaio che purtroppo si è graffiato tantissimo adesso vedete anche nelle altre versioni sempre in acciaio come purtroppo è andato distruggendosi piano piano qui in alto c'è il pulsante hold che serve appunto a bloccare i pulsanti quindi uno lo poteva mettere in tasca e non far premere per sbaglio i vari pulsanti e qui ci sono il classico menu un menu di utilizzo avanti e indietro per i brani e in basso play e pausa il connettore 30 pin eccolo qui è il jack audio quindi un dispositivo davvero leggerissimo un oggettino davvero davvero bello stesso periodo quindi stesso anno di produzione stiamo parlando quindi sempre del 2005 nella la versione più grande diciamo delle ipod nano è la ipod classic eccolo qui in versione nera questa è una versione come vedete sempre ipod acciaio qua forse si è rovinato un po di meno perché l'ho ottenuto di più all'interno di una macchina devo dire aveva una diciamo un dispositivo apposta per portare le ipod in auto e quindi si è graffiato di meno non ho portato di meno in giro un capacità di 30 giga all'interno non c'è una flash ram come ci sono adesso sui iphone eccetera ma c'è un vero e proprio hard disk quindi non c'è un mini hard disk quindi anche molto delicato in caso di caduta poteva oltre a rompersi diciamo lui anche rompersi il disco all'interno quindi bisogna starci un po attenti in basso connettore sempre il classico connettore 30 pin jack audio in questo caso posizionato in alto rispetto all'ipod nano che era qui in basso sempre il tasto hold per permetterci di bloccare la ghiera e qui la ghiera vi faccio anche sentire il rumore che faceva e qui dentro potevamo andare a visualizzare normalmente le nostre playlist eccetera questa versione qui di ipod classic 30 giga del 2005 era anche chiamata ipod video proprio perché era possibile anche scaricare sia le foto sempre da itunes sia i video vi ripeto tutto sempre da itunes c'era anche una sezione extra dove c'erano dei piccoli giochi c'era un orologio che poteva essere visualizzato sullo schermo ma c'erano anche dei piccoli giochi e qua stiamo parlando veramente di giochi ecco qua me lo faccio vedere qualcuno questo è breakthrough ok sono una frana completa vedete c'è questo giochino appunto che ci permetteva di passare un po di tempo all'interno del nostro ipod mentre ascoltavamo la musica dispositivo molto più pesante rispetto anche vedete anche come spessore molto più doppio molto più grande e giustamente è un ipod classic rispetto a un ipod nano e quindi è normale che ci sia questa differenza di dimensione e di spessore due dispositivi che hanno fatto veramente la storia no dei player musicali vi ricordo che nel lontano 2001 nacque appunto itunes e la possibilità di scaricare diciamo a pagamento i brani musicali da poi inserire all'interno di questo lettore cosa che prima c'era la pirateria vi ricordo è nato un apster quindi diciamo le case produttrici e cantanti stessi avevano difficoltà proprio nel gestire i copyright nel gestire i loro brani musicali e steve jobs con la apple decise appunto di creare questa piattaforma chiamata appunto itunes a cui aderirono tutti devo dire proprio tutti i cantanti del mondo in quel periodo naturalmente l'evoluzione di itunes è poi diventata music ma soprattutto dopo itunes sono nati tutti il resto di Spotify è nato insomma lo streaming musicale e diciamo ha dato l'avvio a questo nuovo modo di fruire la musica andiamo a vedere l'evoluzione a questo punto dell'ipod nano che si chiama sempre ipod nano eccolo qui ma ipod nano touch ci ritroviamo nel 2010 quindi cinque anni dopo l'ipod nano e come vedete questa qui è una versione molto molto simpatica in alluminio totalmente in alluminio e guardate come l'alluminio rispetto all'acciaio resiste a molto di più all'usura e vedete com'è ancora nuovissimo infatti ha questa particolarità di questa piccola diciamo clip vedete che ci permette di collegare il nostro lettore a una maglietta alla giacca insomma mentre stiamo correndo perché questo ipod è nato oltre ad avere insomma per ascoltare la musica aveva la possibilità vedete adesso scorro un attimo c'è la possibilità vedete c'è il logo nike era possibile collegare un dispositivo della nike c'era proprio un adattatore sempre a 30 pin la collegherai qui e questo dispositivo nike poteva essere messo addosso nella scarpa e quindi collegandosi a questo dispositivo ci permetteva di contare i passi chilometri fatti quindi stiamo parlando infatti anche come dimensione guardate stiamo parlando forse proprio del prototipo dell'apple watch un dispositivo per ascoltare la musica per avere l'orologio per avere il nostro contapassi la radio e quant'altro sì perché questo dispositivo aveva anche la radio collegando le cuffiette era possibile sentire la radio musica eccetera sempre a nostra disposizione infatti era possibile acquistare poi tramite produttori terzi naturalmente anche degli adattatori dei gadget guardate qui vedete questo è un gadget particolare in cui inserire il vostro ipod nano touch e farlo diventare un orologio vero e proprio quindi un orologio da portare al polso veramente antesignano dell'apple watch cosa molto bella che si poteva bloccare e sbloccare e nel momento che si sblocca vedete appariva l'orologio in questo caso c'è l'orologio di topolino ma c'erano tanti altri che potevano essere gestiti come quadranti davvero un oggettino molto molto simpatico scusate la batteria è andata anche in questo caso quasi scarica quindi non riesco più a farvelo vedere comunque abbiamo capito un attimo come era la logica quindi un dispositivo davvero piccolissimo da portare sempre in giro e quindi un'evoluzione del nostro ipod nano ancora più piccolo ancora più maleggevole ancora più leggero e adesso veniamo diciamo al pezzo forte dell'unboxing stiamo parlando dell'ipod touch di prima generazione questo ipod è stato introdotto nel settembre del 2007 in un evento particolare appunto dell'apple dove venne presentato questo nuovo dispositivo un dispositivo davvero innovativo per il periodo perché in realtà l'ipod touch è veramente un iphone senza la parte cellulare quindi è soltanto un dispositivo in questo caso adesso poi lo andremo a vedere che non ha la parte cellulare ma è in tutto e per tutto un iphone tant'è che nella sua storia nella sua storia lunga in questo caso dal 2007 al 2022 l'ipod touch andava di conseguenza insieme agli iphone quindi fino ad arrivare all'ultima versione che è l'ipod touch di settima generazione che è uguale a un iphone 7 iphone 8 diciamo ma era questa la logica quindi un iphone è un dispositivo solo per ascoltare la musica ma anche con l'introduzione delle app ebbene sì perché con l'ipod touch di prima generazione oltre ad ascoltare la musica la apple inventò anche lo store per le app quindi la possibilità di scaricare delle applicazioni all'interno di un dispositivo mobile questo prodotto è stato acquistato nello store ufficiale della apple a new york mi trovavo lì in viaggio di nozze e non potevo non andare a visitare l'apple store di new york uno dei store più belli in assoluto si trattava del giugno del 2008 e adesso come per magia quella busta che tengo lì in mano all'interno dello store ecco qui è arrivata ci ha raggiunto anche nel 2022 eccola qui è lei è la busta ufficiale dello store di new york dove all'interno appunto c'è il nostro bellissimo ipod touch e adesso andremo a unboxare ed eccolo qui allora si tratta dell'ipod in versione lennon legend è una versione diciamo speciale per la confezione e andiamo a vedere anche in questo caso la confezione come vedete c'è il disegno appunto dell'ipod con l'immagine di john lennon c'è di lato vedete la silhouette dell'ipod stesso anche in questo caso in acciaio e vetro la scritta ipod touch bellissima in argento vedete come ancora tenuta molto bene qui in basso c'è la dimensione quindi lo storage all'interno che è di 8 giga questo prodotto viene rilasciato anche in versione da 16 giga e successivamente anche a 32 giga 8 giga anche da questa parte e possiamo andare adesso a fare l'unboxing andiamo a togliere il nostro la nostra scatola ed ecco il nostro ipod touch all'interno della sua confezione la vediamo successivamente adesso lo spostiamo un attimo andiamo a vedere che cosa c'era anche qui all'interno della scatolina andiamo ad aprirlo e guardate qui allora abbiamo dotazione che veniva data anche in questo caso non abbiamo il caricatore andava caricato con un computer ma soprattutto andava attivato con un computer quindi una volta acquistato se si accendeva non si poteva proprio attivare usciva appunto il simbolo di collegamento a itunes e bisogna collegarlo al computer ecco qui anche in questo caso le cuffie iconiche abbiamo già parlato le cuffie bianche della dei nostri ipod abbiamo il cavo di ricarica leggermente diverso da quello che abbiamo visto prima più piccolino sempre però 30 pin il cavo di ricarica è normalmente di trasmissione dei dati poi all'interno abbiamo il dock anche in questo caso per collegarlo diciamo adattatore da collegare alla nostra docking station eccola qui quindi adattatore realizzato appositamente per l'ipod touch ok e poi abbiamo un piccolo stand guardate qui è una plastichina come vedete piccolissima un piccolo stand per poggiare il nostro ipod adesso poi vi faccio vedere anche come veniva utilizzata non c'è più niente è una scatola molto bella è una scatola molto resistente velluto guardate qui dentro c'è una spugnetta internamente per non rovinare diciamo il nostro dispositivo andiamo a vedere cosa c'era anche all'interno di questa piccola scatolina una cosa molto interessante adesso vedrete allora andiamo ad aprirlo e ecco qui che cosa c'è guardate già aprendolo già forse avete capito c'è un piccolissimo panno in microfibra vellutino adesso penso sia sia un po di microfibra qua in basso vedere scusate un po polverato ma troppo ok qua forse si legge non lo so adesso vediamo comunque c'è scritto ipod ok ed era appunto un piccolo panno per pulire lo schermo del nostro ipod oggi un panno viene venduto a 25 euro per pulire i monitor dei computer appunto dalla apple qua era un pannetto in regalo apple ti ricordi quando ci regalavi le cose ok ecco qui quindi un piccolo panno per la pulizia ma andiamo a vedere anche qui cosa c'era all'interno manuale solo in inglese perché è stato acquistato appunto negli stati uniti e c'era solo la manualistica inglese naturalmente l'ipod touch oggi essendo questa la versione più vecchia la versione 1 è quasi inutilizzabile possiamo utilizzarlo ancora per ascoltare la musica quello sì però diciamo tutta la parte di app di navigazione eccetera ormai non viene più gestita sia perché i siti sono ormai molto più elaborati e complessi da gestire con un dispositivo così anziano sia perché non ci sono proprio più le app quindi le app non sono più aggiornate voi calcolate che qui abbiamo un ios 3.3 quindi stiamo parlando veramente del adesso siamo arrivati a quasi alla 16 quindi immaginate insomma qual è la vecchiaia del dispositivo andiamo a vedere lo sblocco vedete anche qui c'è l'immagine che vi dicevo prima no la silhouette nera con le cuffiette bianche che ci vanno a identificare un prodotto ipod e andiamo a fare lo sblocco orario e data perfetti sblocco avete sentito anche il rumore che ha fatto quando ha sblocato lo faccio risentire ok piccolo sblocco ed ecco le mitiche icone vi dico mitiche icone perché queste sono le icone volute da steve jobs ne abbiamo già parlato quando ho presentato il vecchio macbook si chiama schiomorfismo quindi la possibilità di identificare in modo rapido la funzione dell'icona dal suo disegno come vedete infatti youtube ad esempio è un televisore oppure le note sono proprio un blocco adesso ne apriamo una guardate le note come sono fatte sono proprio una piccola nota con un foglio giallo con le righe quindi sembra proprio un piccolo blocco note addirittura qua c'è anche una vecchia nota creata ok qua c'è il calendario c'è tutto e naturalmente qui in basso c'è la musica naturalmente anche in questo caso la musica andava scaricata da itunes ma avendo il dispositivo per la prima volta il wifi poteva anche connettersi direttamente a itunes infatti qua in basso vedete c'è la icona itunes che adesso insomma conosciamo tutti noi si chiamano musica insomma che ha cambiato nome ma sappiamo insomma cosa serve serve a scaricare le canzoni ma vedete c'è anche l'app store per scaricare le app app che erano le stesse dell'iphone quindi era identico all'iphone di prima generazione con le stesse app ma senza la funzione cellulare si capisce anche guardando il retro del dispositivo che in questo caso è molto molto mi dispiace molto graffiato vedete qui in alto c'è soltanto questo diciamo baffetto nero che è l'antenna wifi invece i dispositivi iphone se vi ricordate avevano una barra nera più pronunciata proprio perché dentro conteneva anche la parte cellulare e quindi aveva bisogno di una schermatura essendo tutto questo in acciaio c'era problemi di schermatura per i segnali quindi furono inseriti questi inserti diciamo di plastica appunto che per permettere la uscita del segnale in basso abbiamo naturalmente il connettore 30 pin e la porta jack per le cuffie in alto abbiamo il pulsante di blocco e sblocco come ci sono ancora adesso negli iphone non abbiamo volume non abbiamo niente proprio perché non era diciamo questo ipod non aveva un altoparlante interno come tutti gli ipod che stavamo vedendo quindi l'unico modo per ascoltare la musica era quello di collegarci delle cuffiette l'unico modo per aumentare o abbassare il volume era quello di farlo tramite il dispositivo stesso una cosa molto interessante per quanto riguarda la musica era quella appunto di poter navigare la musica per playlist che potevano essere create sia qui dentro vedete c'è la playlist on the go quindi creata al momento oppure scaricate dal nostro iTunes addirittura c'era una playlist Genius vedete c'è il stesso simbolo degli Apple Genius degli store proprio perché era una diciamo una playlist che si creava in automatico secondo i nostri ascolti quindi ascoltiamo sempre le stesse canzoni e lui in automatico ci andava a creare la playlist adeguata abbiamo la possibilità di andare a navigare in base agli artisti in base ai brani vedete in base agli album e poi potevamo anche andare a vedere in base ai generi musicali come vedete c'è anche la possibilità di inserire i podcast quindi i primi podcast gli audiolibri lì iTunes University quindi alcune lezioni online eccetera ma la cosa più interessante è quella degli album che ruotando quindi essendo questo in tutto e per tutto un iPhone vedete io lo posso ruotare all'oscilloscopia all'interno e navigare gli album in questo modo molto molto bello che è quello che si vedeva anche nelle presentazioni ma soprattutto sul sito dell'Apple molto spesso veniva presentato in questo modo lo stand eccolo qui possiamo posizionare il nostro iPod in questo modo incastrarlo quindi nello stand collegare le nostre cuffiette e ad ascoltare la musica o vedere video vedere i video di YouTube ho riprovato in questi giorni prima di fare la puntata purtroppo non funziona più niente quindi YouTube parte ma poi dice che non riesce a connettersi anche perché sono cambiati i protocolli eccetera le mappe qualcosa funziona ancora anche se qui c'erano le mappe di Google quindi non c'era ancora la lite furibonda che poi nacque tra Apple e Google per la nascita di Android e quindi qui dentro c'erano ancora gli applicativi della Google quindi c'era ancora YouTube nativo c'era ancora le mappe di Google c'era il meteo cosa che poi è stata tutta tolta e normalmente esiste come app noi le riscarichiamo dallo store ma non sono più strumenti nativi all'interno del nostro dispositivo in questo caso invece non ancora facevano parte diciamo delle app di sistema che c'erano all'interno delle iPod allora spero vi abbia fatto piacere insomma fare questa carrellata un po' nel passato quindi vedere la storia di questo dispositivo che secondo me è stato uno dei dispositivi che più hanno innovato all'interno del mondo Apple ma forse proprio all'interno della tecnologia di consumo vi ripeto 21 anni di storia che adesso la Apple ha deciso di interrompere ma perché l'ha interrotta? Perché ormai un dispositivo del genere non ha più senso di esistere diciamo un iPod Touch come in questo caso è identico a un iPhone e quindi abbiamo tutti l'iPhone è difficile insomma utilizzarlo per ascoltare solo la musica forse qualcosa diverso poteva essere quello di continuare a produrre dei lettori musicali più piccolini magari ecco tipo un iPod Touch come questo qui magari è vero che l'iPod Touch stesso è stato sostituito dall'Apple Watch ma un iPod Touch che serve solo ad ascoltare musica e magari diciamo essere un dispositivo per gli sportivi insomma che magari non vogliono portare dietro l'iPhone ma soltanto per ascoltare un po' di canzoni poteva essere ancora un'idea ma l'Apple ha deciso appunto di abbandonare l'iPod Nano da tantissimo tempo e adesso anche gli iPod Touch allora fatemi sapere nei commenti quale iPod avete utilizzato se ne avete mai utilizzato e qual è il vostro preferito vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale apro una piccola parentesi la crescita del canale è importante proprio per portare sempre nuovi contenuti ci sono tanti video che sto pubblicando in cui ho molte visite ma pochi iscritti quindi a fronte di magari di 6.000 visualizzazioni ho veramente pochi iscritti quindi io vi prego insomma di iscrivervi non è niente di che basta cliccare attivare l'iscrizione e soprattutto la campanellina perché così il canale può crescere e io riesco a fare contenuti sempre migliori ok quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo episodio sempre qui sul mio canale un saluto e un abbraccio da Stefano